Per me è normale svegliarmi all'alba. Mi piace farmi dare il buongiorno dalla mia terra. È sempre stato così. Ci vuole tanta passione. Capisci? Fare il contadino non è solo un lavoro, è una soddisfazione. In questi campi che coltivo c'è tutta la mia vita. La in fondo ci sono le patate, poi c'è la nostra insalata con radicchio e qua ci sono queste bellissime coste che impiegano tre mesi circa per essere pronte per la vendita. Questa è la mia terra. Non ti delude mai se la rispetti. I nostri prodotti sono davvero a chilometri zero. Li raccogliamo e li portiamo direttamente da Poli. Per noi è come andare al mercato, sai? Come facevo una volta. Questo è il profumo del Trentino, donato dalla mia terra. Questa è la verdura che mangio io. Tu lo vuoi sapere da dove arriva quella che mangi? Allora, ti fai. Grazie.